Bentornati per molti benvenuti nel Cineteatro Monologato, la rubrica cinematografica e teatrale del Monologato Podcast, dove andiamo ad approfondire un discorso che spazia dalla musica, perché ci tengo molto affinché questo spazio, ovvero il Monologato Podcast, abbia più sottorubriche e offra una prospettiva a 360 del settore culturale e non sia solamente un commentare e interpretare canzoni. Ci tengo molto e quindi di conseguenza eccoci qua. Oggi voglio parlare di un film che è stato importantissimo per il mondo del cinema muto e secondo me, parere personale, e ora i cineasti mi tireranno le uova, però per me, non perché le uova, è un filmone, però insomma per me è forse il film più bello del cinema muto, non è che ne conosco tantissimi, devo essere sincero, però a me questo mi ha toccato, è uno di quei film che veramente vedi col cuore in gola e con la lacrima facile. The Kid, il monello, tradotto in italiano, Charlie Chaplin che è uno di quelli che anche quando è arrivato il sonoro ha continuato sulla scena del muto, perché comunque come lo faceva lui il cinema muto forse nessuno. E insomma, quando arrivò il sonoro fu una rivoluzione, perché giustamente andava a uccidere un genere l'arrivo del sonoro, e quindi di conseguenza molti si sono contrariati perché gli conveniva, insomma. Altri invece hanno continuato un po' quella scia prendendosi un po' per il culo, diciamo, il mondo del sonoro come Chaplin che ha continuato a fare film muti immettendo ogni tanto sprazzi di sonoro come a dire se voglio posso farlo e poi lui ha fatto anche dei film sonori storici, insomma, li conosciamo tutti. Se fermiamoci su questo film, innanzitutto c'è da dire che il monello in questione, il ragazzo, ovvero Jackie Coogan, non è nient'altro che uno della famiglia Adams, quello rasato, uno dei personaggi principali, ed è pazzesco perché questo ragazzo, questo bambino in questo film ha dimostrato un talento pazzesco. Io sono rimasto allibito nel vedere questo film e dire mamma mia ma questo è solo un bambino. Un talento assurdo e che poi ovviamente l'ha dimostrato con gli anni, ha continuato su quella carriera facendo sempre progetti importanti, quindi comunque il talento si vede da piccoli. Vedevo il documentario di Francesco Totti e fa vedere proprio immagini, cose che ha fatto da adulto e come le faceva anche da bambino. I movimenti, i determinati tocchi di palla. Cioè, quando comunque da bambino il talento c'è, poi da grande devi solo lasciarti andare ed è questo uno dei casi. Il film è veramente meraviglioso, parla di una donna che ha, insomma, sedotta e abbandonata, viene dimessa dall'istituto di carità dove ha dato alla luce il figlio, ma non potendolo mantenere decide di lasciarlo all'interno di una macchina di lusso con la speranza che sia la ricca famiglia proprietaria del mezzo a crescere il bambino. Di lì a poco lei si pente, ma il destino ha voluto che nella sua strada ci fosse Charlotte, il vagabondo, ovvero Charlie Chaplin, che lo cresce come fosse un padre. Inizialmente fa di tutto per disfarsene, c'è questa scena comica di lui che cerca di disfarsi appunto di questo bambino, come a tanti un mostro, però è così simpatico il modo in cui lo fa e alla fine invece lo tiene per sé e diventa suo padre a tutti gli effetti, nonostante la povertà, nonostante tutto quello che compete, la scelta di prendere un figlio. Ed è veramente toccante vederlo come si sbatte. Poi crescendo si aiutano, quindi il bambino rompe le vetrate che il padre va ad aggiustare e quindi è complice, diciamo, nella gestione dell'attività di questo vetraio ambulante ed è già di per sé meravigliosa questa scena, con tutto quello che ne consegue, quindi mille problemi, persone che quasi stanno lì per sgamarlo, le autorità che lo rincorrono, questi due che scappano. Nel frattempo la madre, l'ex madre, diventa un'attrice affermata e osannata e comunque sente il bisogno di ricercare, no? Ora, ovviamente non arrivo al finale, non voglio spoilerare, però ci sono un paio di scene che mi piacciono molto. Ad esempio quando il figlio c'è un bulletto, che vuole, diciamo, picchiarlo, e iniziano questa risetta e Chaplin interviene e, raga, fa veramente morire, dovete vederlo. E a un certo punto c'è il fratello maggiore del bullo che gli dice se tuo figlio batte mio fratello, poi sono cazzi tuoi. E allora Chaplin inizia ad attaccare il figlio stesso, la Eddie Guerrero proprio, ragazzi, veramente una scena pazzesca. Però c'è la scena più bella, che è quella dove praticamente cercano di separare padre e figlio e questo padre fa di tutto per riprendersi questo bambino e c'è la scena bellissima dove si ritrovano in questo carro e si abbracciano e si baciano con l'ingenuità e l'affetto che solo un padre sa dare a un figlio. Ma non è il padre vero e questo lo rende ancora più bello perché, sapete, c'è questo discorso del sangue, no? Che un figlio se non è tuo non sarà mai tuo. Io credo che sia una cazzata perché, cioè, se un cane prende le sembianze del padrone figuriamoci un bambino e comunque un figlio è anche di chi lo cresce. E, insomma, è importante questa dinamica nel film. Comunque questo è un film che in qualche modo viene distribuito in tutto il mondo e che lo, diciamo, consacra a Chaplin. Il film è costato 250.000 dollari ma ne incassò 2.500.000 classificandosi al secondo posto tra le pellicole di maggiore successo degli Stati Uniti nel 1921 secondo solo ai Quattro Cavaglieri dell'Apocalisse. Stiamo parlando di nomi importantissimi. E questo film ha proprio consacrato Charlie Chaplin che poi è diventato quello che è che già a suo tempo era. Ciò che colpisce è il talento di lui, del bambino e, insomma, di tutto quello che c'è dietro un progetto del genere. E io lo voglio consigliare a tutti voi del monologato podcast anche se oggi vedere un film muto è difficile, è difficile anche per me, per me è difficilissimo. Io che sono abituato alle serie, un po' come tutti, è veramente difficile. Però c'è da dire che ne vale la pena lasciarsi un attimo cullare da questi progetti, andare alla riscoperta dell'essenza, dell'essenziale. Questo film è fatto di piccole emozioni che ti toccano dentro. Credetemi, è veramente difficile a un certo punto trattenere le lacrime e non lasciarsi invadere da sentimenti fatti di purezza. Ecco, veramente un bel film. The Kid, Il Monello, Charlie Chaplin. Andatelo a recuperare perché ne vale veramente la pena.